l'ultimo video di questa nostra estate estate europea è dedicato un po così ad alcune valutazioni che potremmo definire migliori e peggiori di questo di questo campionato europeo è stata una è stata comunque una bella avventura e vi ringrazio per averla seguita e analizzando un po quello che è stato quello che è accaduto in un torneo molto particolare un torneo che è arrivato alla fine di una stagione di una delle tante stagioni sfiancanti e sarà sempre peggio è arrivato in un momento dove l'esaltazione del singolo è avvenuta solo in alcuni casi dove tanti giocatori attesi non hanno fatto bene e dove tante squadre soltanto un po di squadre hanno hanno deluso ma in particolar modo una ha deluso su tutte andando così a scorrere un po la classifica dei della prima fase troviamo evidentemente la croazia che è finita terza nel nostro raggruppamento la croazia che è arrivata evidentemente alla fine del suo grande ciclo un ciclo che ha prodotto una finale mondiale che ha prodotto comunque un mantenimento di livello alto grazie a giocatori fenomenali come luca modric o giocatori importanti come brosovic come perisic e che adesso si trova all'inizio di una nuova fase in questa nuova fase probabilmente avrà bisogno di tempo per ritrovare il livello che è stato raggiunto da questi ragazzi da questi da questi calciatori è una cosa un po triste aver visto così finire diciamo il ciclo dei dei croati ma è anche una cosa naturale e in un certo senso è stata anche un po la nostra fortuna perché grazie a quel pareggio ci siamo ci siamo qualificati venendo al gruppo b nel gruppo b c'è stata appunto la delusione della croazia ma c'è stata poi la peggiore squadra di questo europeo in rapporto alle potenzialità in rapporto alla storia e mi riferisco naturalmente a noi l'europeo dell'italia è stato un europeo caratterizzato da tanti retroscena che abbiamo scoperto dopo da situazioni tattiche incomprensibili dalla totale confusione del nostro commissario tecnico arrivato in germania senza un'idea e senza capire bene che cosa aspettarsi dai ragazzi e nemmeno che cosa volere dai ragazzi e questo è emerso nella sua tragicità sportiva ovviamente nell'ottavo di finale con la svizzera siamo stati surclassati da una squadra buona che ha fatto un eccellente europeo perché in condizioni normali sarebbe stato un avversario assolutamente affrontabile per noi che siamo sembrati davvero di diverse categorie inferiori rispetto a loro ma non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista mentale organizzativo di scelte ecco è stata una spedizione completamente sbagliata dall'inizio alla fine e naturalmente come accade spesso quando si fallisce un grande appuntamento come è accaduto all'italia sono tutti lì al loro posto sono tutti lì in italia si fa così si parla due tre giorni adesso cambiamo tutto dobbiamo ribaltare il calcio italiano due tre giorni poi ciao non si parla più nessuno frega più niente nessuno speriamo che lavori nell'ombra per noi ma ecco è stata veramente è stata veramente una grande grande delusione in un torneo dove di fatto nella prima fase ne elimina poche perché ne elimina sostanzialmente è un paio quasi diciamo una per girone quattro più altre due ne elimina sei alla prima fase ecco che insomma il passaggio agli ottavi di finale per le big europee era insomma era il minimo sindacale e questo è accaduto nessuna grande squadra a parte appunto la croazia è rimasta fuori dalla dalla seconda fase e nella seconda fase ovviamente troviamo un'altra delusione possiamo dirlo anche se poi è una delusione perché giocava in casa perché la germania aveva aspettative legittime di poter andare in là in questo torneo è stata anche una partita quella con la spagna caratterizzata dal mani non fischiato a cucureia che poteva indirizzare sicuramente quella quella gara però è chiaro che uscire in un quarto di finale insomma per una squadra giovane per una squadra con entusiasmo per la squadra che ha mostrato anche io personalmente ritengo il miglior calcio dopo quello della spagna la squadra con le idee più chiare e beh in un certo senso ecco avrebbe potuto cogliere l'occasione no del torneo in casa per rilanciarsi dopo una serie di risultati negativi che partono dal 2000 e da dopo il 2014 praticamente perché l'europeo del 16 fuori in semifinale i mondiali del 18 molto male l'europeo del 21 male gli ultimi mondiali male quindi questa era la grande occasione per la germania per potersi rimettere in pari con se stessa fondamentalmente con la sua grande storia e la sua grande tradizione invece ha trovato sul suo percorso la squadra che poi sarebbe diventata come abbiamo visto campione d'europa dall'altra parte io metto un po nelle delusioni anche l'austria nel senso che pensavo almeno un quarto di finale pensavo che sarebbe riuscito a superare la turchia perché aveva mostrato un calcio che probabilmente è stato allo stesso tempo così efficace nella prima fase quanto dispendioso e una richiesta tale di energia una richiesta tale di corsa di fatica e quant'altro probabilmente è costata poi la gara con con la turchia resta il gran lavoro fatto da da ragnic sicuramente a livello di organizzazione ecco credo che l'austria sia stata la terza squadra dopo la spagna naturalmente e dopo la germania a farci vedere un'idea di gioco ben chiara e definita questo sì sicuramente ecco queste sono un po sono un po le mie le mie delusioni del torneo ci mettiamo dentro pure la francia sì ce la mettiamo per il fatto che è arrivata a questo europeo con la rosa migliore qualitativamente distribuita su tutti i reparti con grandi campioni inutile citare giocatori che arrivano da parigi da madrid insomma veramente una squadra dal milan una squadra ricchissima di talento ricchissima di possibilità eppure queste possibilità non si sono viste perché l'unica l'unico momento nel quale la francia si è vista come squadra è stata la semifinale con la spagna in alcuni momenti ecco della partita per il resto è stato un insieme di giocatori poco inclini a sacrificarsi l'uno per l'altro molto attenti alla prestazione personale molto attenti alla vetrina personale piuttosto che alla squadra è una squadra che è andata avanti di inerzia nel girone è andata avanti di inerzia anche con il belgio negli ottavi di finale poi è dovuto arrivare ai calci di rigore con con il portogallo per riuscire a a vincere ed ha giustamente perso con la spagna in semifinale ma una squadra che ha confermato tra l'altro de chan fino ai prossimi mondiali quindi evidentemente la gestione ritenuta soddisfacente ora è chiaro che de chan che ha vinto un mondiale quindi non è proprio uno cioè non è southgate ecco con tutto il rispetto è uno che un mondiale l'ha vinto pertanto un certo credito ha ed è giusto che abbia però anche vero che insomma sì è vero che la francia vice campione del mondo ma ecco questo poteva essere davvero il torneo per proprio piantare la bandierina dire siamo i più forti e invece nonostante probabilmente siano stati più forti a livello di rosa non l'hanno dimostrato a livello di squadra che tra l'altro è un inciampo nel quale la francia ricade spesso nel corso della ricaduta spesso nel corso della sua storia no questi inciampi strani con tensioni varie all'interno dello spogliatoio ecco poi io non lo so se a voi farebbe piacere mettere anche il portogallo tra le delusioni io sinceramente dopo le prime partite avevo già un po annusato l'andazzo nel senso che quando ti porti in casa roberto martinez è la fine che fai è questa cioè quando il belgio mandò a casa wilmot si pensava insomma che potesse arrivare qualcuno la cui gestione potesse valorizzare il calcio i calciatori del belgio e invece martinez l'ha appiattito sfruttando le qualità individuali ed è la stessa cosa che ha fatto col portogallo portogallo che ha avuto due problemi in questo europeo primo il calcio lento compassato e assolutamente narcotizzato di martinez che gode di un credito poi vabbè magari un giorno qualcuno me lo spiegherà e la seconda cosa è fatto da centravanti ovviamente è fatto di aver avuto ronaldo più palla al piede che che palla in gol cioè più un giocatore assolutamente concentrato ormai solo su questa sua ultima fiamma di carriera è totalmente estraneo da tutto il resto ecco l'abbiamo visto non scambiare mai un pallone non fare mai una triangolazione non aiutare mai i compagni no solo in preda a crisi isteriche come quella con con la slovenia e basta e basta quindi questi sono stati i problemi di una squadra che secondo me per il potenziale per la qualità avrebbe potuto uno esprimere un calcio decisamente migliore e due andare più avanti secondo me la francia la poteva battere il portogallo quindi lo mettiamo lo mettiamo lo mettiamo tra tra le delusioni venendo invece alle cose belle quindi alle note positive di questo europeo voglio segnalare prima di arrivare alla fine alla spagna voglio segnalare sicuramente la turchia mi piace iniziare da qui dal lavoro di montella turchia che ha ceduto solo in ai quarti di finale con l'olanda ma che si è presentata innanzitutto con dei giovani con anche qui un'idea chiara con un calcio comunque propositivo senza tirarsi indietro rispetto alle difficoltà di un torneo che non la vedeva certo come potenziale protagonista ecco quindi mi piace sottolineare la bontà del lavoro di montella poi non posso non segnalare anche se parzialmente l'ho già fatto il torneo della svizzera la l'ottima squadra di jakin che ha messo beh insomma che ha devastato completamente l'italia per poi anche mettere in grande difficoltà l'inghilterra e costringere ad arrivare fino ai calci di rigore ecco quindi cominciamo da qui per segnalare le cose le note positive poi devo dire l'olanda sicuramente è vero che ha sfruttato la parte del tabellone più facile però bisogna arrivarci quindi anche noi avevamo anche noi eravamo nella parte del tabellone potenzialmente più facile però bisogna arrivarci e non è facile quindi il lavoro di kumann è stato un lavoro interessante perché innanzitutto si è presentato in germania senza il centrogampo titolare è riuscito a ridisegnare una squadra logica una squadra con un senso una squadra con un attacco sempre tra lo spettacolare e l'evanescente cioè in quella in quella fascia di mezzo lì perché può essere questo può essere quello quindi non sapevi mai che cosa aspettarti dalla fase offensiva dell'olanda e comunque il raggiungimento di una semifinale giocata alla pari con l'inghilterra ecco secondo me è un bel traguardo per una squadra anch'essa che insomma ha saltato alcuni alcuni tornei importanti che ha avuto delle difficoltà e che adesso insomma nonostante non ci fosse Van Gaal ha ottenuto un buon risultato quindi complimenti sicuramente a queste squadre per essere arrivate fin lì poi vabbè potremmo sottolineare anche alcune individualità come il portiere della Georgia Mardashvili del Valencia che è sicuramente un giocatore che ha fatto un grandissimo torneo potremmo segnalare magari ecco tra quelli un po' meno così appariscenti alcuni giocatori come Vargas ad esempio della Svizzera vediamo poi alle due finaliste allora le due finaliste la Spagna e l'Inghilterra si pongono l'una sul piedistallo più alto non solo perché ha vinto ma anche perché ha stradominato questo torneo meritando senza ombra di dubbio di vincerno e poi c'è l'Inghilterra dove mettere l'Inghilterra ecco questo è un tema interessante perché è vero gli inglesi sono arrivati fino alla fine e sono arrivati fino all'ultimo atto e sono arrivati a pochi minuti dai supplementari dell'ultimo atto pertanto non si può parlare non si può, chiedo scusa, partita la sigla non si può parlare di un torneo negativo poi vai a guardare e scopri che insomma per la seconda volta perdono in finale e questo è chiaro non aiuta l'umore e non aiuta nemmeno la valutazione sul lavoro di Southgate la valutazione sul lavoro di Southgate è una valutazione comunque nel complesso positiva perché è stato capace di far riemergere il calcio inglese ad altissimi livelli mondiali ed europei sfruttando chiaramente la bontà che il campionato produce quindi i giocatori che sicuramente sono avvantaggiati da poter giocare a loro volta con giocatori importanti in un campionato molto competitivo quindi lui ha preso quello che di buono è arrivato in questi anni dal 2018 fino adesso dal campionato non sempre l'ha sfruttato a pieno anche lui non è catalessico come Roberto Martinez però anche lui non è che abbia nonostante la sua applicazione nel cercare variazioni tattiche nel cercare anche soluzioni in corsa ad esempio in questo torneo a un certo punto si è accorto che la sua scelta di Alexander Arnold come mediano non pagava ha messo me no che ha risposto fino alla finale molto bene quindi sicuramente c'è stata la bravura nella gestione del gruppo la bravura anche nello sviluppare certe problematiche tattiche nel risolvere certe problematiche tattiche però è mancato sempre quel quid cioè è mancata sempre quella sensazione che l'Inghilterra avesse un'idea di fondo cosa che c'era ad esempio nel 2018 nel 2018 ai mondiali di Russia è stata probabilmente paradossalmente seppur non siano arrivati in finale quella poteva essere la squadra che più si sarebbe dovuta avvicinare alla vittoria poi è chiaro c'è stato il torneo del 21 un torneo particolare anche molto disegnato molto per aiutare l'Inghilterra ad arrivare in fondo quest'anno invece la finale se la sono sudata se la sono sudata perché se la sono sudata con la Slovacchia dove erano praticamente fuori se la sono sudata con la Svizzera hanno comunque dovuto superare un'Olanda non proprio l'ultima arrivata e in finale hanno ceduto alla Spagna ma dopo aver recuperato la partita quindi questo chiaro scuro queste cose buone e meno buone della gestione Southgate hanno impedito poi che si consumasse quello che gli inglesi aspettano da 50 fischi anni ovvero poter mettere qualcos'altro in bacheca perché è abbastanza singolare che una nazionale di un paese importante calcisticamente parlando come in Inghilterra non sia mai riuscita in tutti questi anni a vincere altro che quel mondiale casalingo e resta adesso ancora così quindi dovrà aspettare due anni per eventualmente il bellissimo mondiale a 7000 squadre Canada, Stati Uniti, Messico e poi eventualmente il prossimo europeo ma è evidente che resta la sensazione adesso come tre anni fa di un qualcosa di incompiuto ma proprio di incompiuto con la I grande cioè qualcosa di potente qualcosa di occasioni che forse non torneranno perché non è sempre facile arrivare in finale anzi è molto difficile farlo per due tornei di fila e non vincere è insomma è un qualcosa che probabilmente lascerà il segno nelle prossime stagioni di un'Inghilterra che comunque è una squadra molto competitiva ma che ha trovato poi e chiudiamo ha trovato poi la squadra più forte del torneo la Spagna ha battuto la Croazia ha battuto noi ha battuto l'Albania ha battuto la Georgia ha battuto la Germania ha battuto la Francia e poi ha battuto anche l'Inghilterra la Spagna ha vinto con Croazia Italia Germania Francia e Inghilterra cioè praticamente al netto del Portogallo ecco ha battuto tutte le squadre più forti più importanti del panorama di questo torneo e quindi è logico che poi vinca alla fine e vince attraverso è vero sì la qualità la bellezza del gioco dei suoi ragazzi la bellezza di Rodri che tra l'altro in finale ha pure dovuto dare forfè a metà della partita ma ha vinto perché aveva un'idea ha vinto perché ha perseguito il suo progetto dall'inizio alla fine con le idee chiare con gli uomini chiari con le posizioni chiare con le partite chiare con tutte situazioni che non potevano non portare alla vittoria perché quando tu arrivi alla fase finale con l'assoluta determinazione una pulizia di idee eccezionale come quelle della Fuente è difficile che con una squadra del genere tu non riesca almeno ad arrivare a giocartela in fondo almeno perché è nella naturale composizione di un torneo breve dove devi arrivare preparato devi arrivare preparato ogni riferimento al disastrosa spedizione azzurra è volutamente fatto per sottolineare ancora una volta come non si possa fare questo in una fase finale di un torneo bene detto questo io rinnovo il mio grazie per essere stati qui per aver seguito i miei video per aver apprezzato anche il mio tentativo così non di raccontare nulla ma semplicemente di analizzare e di scambiarci delle opinioni su questo torneo e niente speriamo di poter essere qui fra due anni a fare le nottate e raccontarci i campionati europei e i campionati mondiali sperando che ci possa essere naturalmente l'Italia perché con questi qui nulla è scontato ma insomma la speranza come si dice è sempre l'ultima a morire rinnovando i complimenti alla Spagna per il successo io ringrazio tutti voi e l'appuntamento è a presto a presto